Solo nell'ultimo fine settimana sono state inoculate 30.000 dosi, toccando il record giornaliero. Va avanti spedita la campagna vaccinale promossa dall'Asla di Salerno, anche se bisogna fare i conti con la penuria di Fiale, come spiega il responsabile dell'azienda sanitaria locale, Arcangelo Saggese Tozzi. Noi oggi lavoriamo con poche dosi di Moderna e di AstraZeneca che abbiamo ancora. Il vaccino Pfizer si è esaurito. Però non stiamo fermi, proprio perché è necessario continuare, stiamo lavorando con Moderna, lavoriamo con AstraZeneca. I numeri però sono incoraggianti e quelli sottolineati da Saggese Tozzi testimoniano le ragioni del rallentamento della pandemia sul territorio salernitano, corroborato dai dati in discesa degli ultimi giorni. Abbiamo somministrato a questo momento 422.000 dosi di vaccino. Abbiamo il 30% della popolazione di Salerno vaccinata con le prime dosi che già ha fatto abbattere completamente la circolazione del virus. Non a caso siamo scesi sotto certi valori, non a caso abbiamo le terapie intensive tranquille in questo momento, cioè la situazione inizia a dare uno sbocco. L'obiettivo dell'Asla però è allargare sempre più la platea degli immunizzati, estendendo la campagna vaccinale alle categorie economiche, così come da piano regionale. Priorità in tal senso ad aziende turistiche e agricole che rappresentano un comparto decisivo per la provincia di Salerno. Appena avremo vaccini a sufficienza siamo pronti, stiamo con le aziende, attivando le aziende per avere centri vaccinali nelle aziende, con personale delle aziende, noi forniremo i vaccini, forniremo il supporto. In questo modo, avendone le dosi, noi saremo in grado di raddoppiare la somministrazione.